io ho bella tutti ragazzi sono un factor mode oggi sono qui con una guida di fornite stagione 4 settimana 4 finalmente settimana 4 uscita un'altra settimana e oggi la missione che vi farò vedere è cerca fra una panchina un camion e gelati e un elicottero vi farò vedere semplicemente dove si trova il punto esatto dove bisogna andare ed è molto molto facile niente ragazzi se vi piacciono i miei video e se volete altri video del genere lasciate un bel like un bel commento e un saluto da factor mode alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.